Buongiorno a tutti. Buongiorno a lei. Ricordiamo un medico chirurgo specializzato in medicina dello sport, omeopata e studioso di medicine naturali. Dunque, dottor Torchio, abbiamo iniziato un ciclo su tutti i pasti nello specifico della giornata. Abbiamo affrontato quella della colazione e adesso con lei voglio affrontare quello sugli spuntini. Lo spuntino di metà mattinata e lo spuntino di metà pomeriggio. Sì, gli spuntini sono estremamente importanti per un motivo, che quando noi andiamo in ipoglicemia, quindi abbiamo mangiato da più ore, soprattutto se poi abbiamo mangiato di pasti squilibrati, quindi vuol dire pasti che hanno troppi carboidrati, che vengono astorbiti molto velocemente, creano un rialzo glicemico, poi l'insulina trasforma tutto questo zucchero velocemente in grasso, noi andiamo in ipoglicemia. Queste ipoglicemie, che vengono due, tre ore dopo i pasti, quattro ore dopo i pasti, si accompagnano sempre a un crollo dell'energia, a un senso di stanchezza, di sonnolenza, ma soprattutto anche a irritabilità, aggressività. E questo purtroppo è un problema che accentua i problemi che abbiamo oggi nel mondo, dove c'è poca pazienza, un altissimo elevato grado di irritabilità, proprio per il surmenage e per lo stress. Quindi è importante fare dei pasti che mantengono il più possibile la glicemia costante. E allora lo spuntino è molto molto importante, lo si fa magari in tarda mattinata, a seconda del pranzo, se si pranza a luna lo spuntino lo si farà alle 11 e mezza, 11 e 45, se si cena alle ore 20 lo spuntino lo faremo alle 17 e 30, diciamo l'ora del tè. Allora lo spuntino ideale è caratterizzato sempre da carboidrati a lento assorbimento integrali perché non vengano assorbiti troppo velocemente, ci diano quella botta di energia che però dura veramente poco e ci fa ingrassare. Quindi non dovremo mai mangiarli da soli, per cui potremmo utilizzare un crackers integrale e potremmo poi utilizzare delle verdure e delle proteine. Le verdure ne possiamo utilizzare una quantità infinita perché andiamo al nostro palato ma dovremmo cercare di rispettare la regola, di mangiare le verdure di stagione e soprattutto che siano biologiche. Assieme a questi cracker integrali a lento assorbimento, quindi non solo il frumento che a volte ha troppo glutine ma anche possiamo utilizzare il grano saraceno, la quinoa, l'amaranto che sono degli pseudo cereali che hanno un alto valore proteico e hanno meno calorie, aggiungiamo quindi le nostre verdure che possono essere anche bollite, per esempio facciamo l'esempio degli spinaci, delle cime di rapa che possono fare da fondo su questo cracker dopodiché aggiungiamo due o tre gocce di olio extravergine di oliva e poi la parte proteica. La parte proteica che io essendo di formazione vegetariana e vegana per me la parte proteica può essere la crema di tofu, può essere una crema di legumi, mista di legumi che fornisce comunque proteine anche se c'è anche qualche carboidrato. Abbiamo legumi che hanno meno carboidrati come per esempio i lupini, le fave, abbiamo i fagioli che hanno più carboidrati e quindi in quel caso dobbiamo ridurre il quantitativo il cracker deve essere un po' più piccolino insomma per compensare i carboidrati dei fagioli altrimenti utilizziamo il nostro pasto proteico, quindi potrebbe essere un formaggio molto molto magro se non abbiamo intolleranze e potrebbe essere una fetta di ovviamente di un pasto proteico di derivazione animale se siamo onnivori sempre però possibilmente di derivazione biologica e poi soprattutto non troppo salata. Non dobbiamo abbondare con gli affettati anche se parliamo di Bresau, la difesa, di Tacchino queste cose sono magre ma sono molto molto salate, quindi soprattutto per la donna che ha problemi di ritenzione idrica non bisogna esagerare, così come non possiamo pensare di mangiare tutti i giorni i formaggi perché sappiamo che i latticini sono pieni di fattori di crescita e quindi dovrebbero essere alternati, quindi dobbiamo utilizzare questa fonte proteica in rotazione. La base è sempre il nostro cereale integrale sotto forma di cracker o fetta di pane con le verdure abbondanti proprio per riempirci e nello stesso tempo ritardare l'assorbimento dei cibi evitando quei picchi glicemici seguiti poi da crolli glicemici che fanno sì che quel momento di stanchezza e di irritabilità ricompaia poi molto rapidamente. Dottor Torchio e la ringrazio per i suoi meravigliosi consigli, continueremo queste puntate sui vari pasti della giornata. Se voleste rivederli tutti insieme basta andare su YouTube e digitare i consigli del dottor Luigi Torchio. Buon proseguimento di visione! Grazie a tutti!